amici dello zoccolo duro buongiorno 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 oggi sarà un video più breve del solito un'analisi più breve del solito perché oggettivamente ho visto il primo tempo tra l'altro dal trentesimo in poi guidando perché stavo andando al campo secondo tempo mi stavo scaldando visto il gol di dia ma non ho visto molto poi ovvio ho risentito le interviste ho guardato gli highlights però sapete che io quando faccio l'analisi è perché la partita l'ho vista bene con questi occhi qua e quindi vi vado ad analizzare i dettagli e le piccolezze che altri non fanno non a caso il video più visto l'analisi no so che l'apprezzate molto quindi se oggi non è un'analisi come quella solita io ve lo dico prima alla dogana avevo la semifinale non è che potevo farci niente di conseguenza oggi sarà un'analisi parziale potrei fare anche degli errori ma sappiate che io non ho visto tutta la partita quindi no è così oggi è così contentatevi di quello che è oggi vi ricordo prima di iniziare di andare sul canale dei jargia dove ci sono le magliette le scarpe tutto quanto come al solito vi lascio il link in descrizione tra l'altro oggi c'ho già un paio di video in mente uno lo farò lì sul canale dei jargia e l'altro invece lo farò qua a proposito di leao di pioli voglio fare un discorso un po più approfondito perché oggi c'erano tutti con pioli e leao il problema secondo me sono altri però poi ne parleremo detto questo ragazzi per quanto riguarda la partita di ieri allora su pioli io non ho niente da dire perché è facile parlare dopo io parlo sempre prima ha messo la formazione che tutti ci aspettavamo ragazzi anzi non ha messo nemmeno tonali ha messo benasser che tonali aveva bisogno di riposare infatti poi ha giocato cinque minuti quanto ha giocato tonali che che era quello che avevamo chiesto ragazzi girù l'ha fatto partire poi l'ha tolto al sessantesimo come era previsto in conseguenza pioli ha fatto tutto quello che che avevamo chiesto di fare sinceramente non ho molto anche i cambi toglie girù mette ibra ha tolto un leao che non non c'era ieri oggettivamente peggiori in campo non c'era messo righi non che non è cambiato niente è questo rendetevi conto e poi ha tolto sale me che va beh messo florenzi non ha messo calabria cambia poco e ha messo tonali verso la fine solito decate l'arche purtroppo non rende avrei voluto vedere ad lì lo dico lo ribadisco e lo ribadisco ancora mi piacerebbe ogni tanto vedere ad lì perché è uno che salta l'uomo uno che anche nella sua confusione crea qualcosa purtroppo non l'ho visto la partita si è vista subito che era una partita brutta e difficile sono quelle classiche partite dove tu giochi in casa l'avversario si chiude e prova a ripartire e la cosa più difficile di solito in queste partite è trovare sbloccarla no e trovare il gol e infatti non riuscivamo a sbloccarla abbiamo avuto la fortuna e anche la bravura perché ragazzi siamo riusciti a segnare sul calcio d'angolo quindi la fortuna e la bravura di segnare sbloccare la partita la partita era in discesa hai preso un gol stupido lì ragazzi è un gol dove è scesa la concentrazione e già avevi fatto un errore al primo tempo dove avevi preso un contropiede totalmente inutile malic lì ha fatto proprio una caccia cosa voleva fare il malic di testa cosa voleva cosa voleva fare non l'ho capito fa glielo sbagliare un pallone a sto cristiana quando arrivato non è sbagliava non ne sbagliava mezzo un pallone fa glielo sbagliare a sto cristiano e già lì cosa ci facciamo noi al quarantesimo che minuto era al quarantaduesimo eravamo tutti sopra palla che quello sbaglia il passaggio indietro anche calulu guarda calulu cosa fa in quell'azione la quando malic sbaglia no c'è malic che l'hai calulu lo guarda c'è calulu che è il più veloce non è che mentre malic c'ha quella palla alta inizia a correre che se quello sbaglia lo copre no è lì che lo guarda e poi non accelera neanche cioè ragazzi guardatevi quell'azione emblematica per farvi capire la partita di ieri c'è malic che sbaglia di testa la da dietro corre poi lui insieme a dia non è velocissimo malic di conseguenza dia lo brucia poi fa il miracolo megnane vabbè ma calulu non ha minimamente aumentato la corsa cioè guarda lo guarda e gli passeggia dietro come se non fosse successo niente c'è una roba che ti fa capire che mentalmente non avevamo la stessa cattiveria e la stessa voglia di portarla a casa c'è l'obiettivo quarto posto ad oggi non accende moltissimo ragazzi come non accende me non accende nemmeno i giocatori soprattutto poi vedi gli altri come cosa fanno e dici vabbè tanto quarti ci arriviamo poi non è detto poi non è detto perché poi sbaglia una partita non è detto tu renditi conto che nonostante il pareggio di ieri e tutti gli altri errori siamo quarti siamo quarti al netto della juventus i punti siamo quarti al momento siamo lì e settimana prossima c'è juve inter e il derby di roma tu vai a udine c'è per assurdo potresti essere già secondo settimana prossima per assurdo potresti essere secondo perché se la lazio non vince e l'inter non vince con la juve sei praticamente secondo quindi per assurdo non è successo niente devi andare a vincere a udine cioè il pareggio che magari poteva starci a udine mentre in casa dovevi vincere adesso devi andare a vincere a udine è più facile che sei più concentrato in trasferta udine dopo aver fatto sto pareggio che ieri sera e questo è male non è un bene questo è male però così ragazzi che gol abbiamo preso abbiamo preso una rimessa laterale dove c'erano tre liberi mezzo all'aria noi tre che camminavamo anche lì guarda tomori dov'è tomori cioè sul gol di dia dov'è tomori è sulla tre quarti cioè mentre l'attaccante è solo in aria lui non fa quello scatto rabbioso per andare a recuperare è lì che anche lui tornicchia e noi non ce lo possiamo permettere cioè per come gioca pioli per la squadra alta che abbiamo noi non ce lo possiamo permettere cioè se noi caliamo su quella concentrazione quella cattiveria prendiamo gol non ce n'è non ce n'è noi dobbiamo giocare a quel livello là e è colpa di pioli che a livello mentale non eravamo così cattivi anche perché con conte ste cose non succedono con conte ste cose non succedono conte fa la differenza di campionato per queste partite qua cioè la bravura di conte che in queste partite quello ti mangia il cuore tutta la settimana non poi ovvio che dura un anno due anni e poi lo devi mandare via perché uno che ti sta addosso può durare un anno due anni poi lo spanculi infatti più di uno due anni non dura conte però in queste partite lui non le sbaglia queste partite lui non le sbaglia mentre invece noi sì evidentemente sì andiamo con le valutazioni che saranno un po veloci un po poco dettagliate a megnano sette vorrei dargli anche di più però ragazzi ha fatto un intervento cioè su dia che cosa ha fatto di piede fuori aria nell'uno contro uno con la porta vuota che inter che intervento da pazzo totale ha fatto e questo cioè questo ti para tutto quando importa parata col tottenham e altre mille parate no cioè quando importa segnare a megnano è difficile no ti ti imposta il gioco ti imposta il gioco coi piedi nelle uscite sono tutte sue e persino come difensore fuori aria va a farti quel miracolo di ieri portiere totale totale mi ricorda veramente il primo noia ragazzi cioè oggi megnano mi ricorda il primo noia che ricordate che era il primo che giocava coi piedi usciva parava faceva tutto mi ricorda veramente il primo noia gli diamo sette meno male che è tornato magic mike quanto mi sei mancato per il resto vedo poche sufficienze partiamo da salemaker voto 5 ragazzi non è un giocatore da mira gli voglio bene gli voglio bene perché si vede che uno che ci tiene al milan anche nelle intervista mi sembra pre partita parlato lui l'ho sentito parlare ad alcuni miei amici non sta simpaticissimo anzi la mia amica in particolare non sta simpaticissimo in giro con quella borsetta che sembra il mafioso del cartello di cali lì se quello che va sempre la borsetta sotto il braccio che cazzo ti porti la borsetta sotto il braccio personaggio alexis si vede che al milan ci tiene si vede che ha grande rispetto per il milan ma proprio perché ha grande rispetto per il milan deve capire che lui non è un giocatore la mia ragazzi non segna manco con le mani oggettivamente perché avrà fatto da quando al milan in tre anni quattro anni ha fatto quattro gol quindi non segna manco le mani assist manco a parlarne e a livello difensivo c'è dei buchi anche il cross di ieri per dia da dove gli è passato sotto le gambe dove gli è passato cioè si è andato lì a chiudere il cross e gli è passato attraverso il cross dove gli è passato ma santi dio non è un giocatore da mina secondo me mi spiace però purtroppo è così e tra l'altro adesso sta giocando nel suo ruolo perché il suo ruolo è il quinto è il quinto non è l'ala perché non è capace il suo ruolo è il quinto però oggettivamente non è un giocatore da mina pensa che il suo posto gioca messias che è che è una seconda punta cioè se vogliamo fare sto modulo bisogna comprare un quinto ma un quinto normale cioè un darmian qualunque basterebbe per dirti uno zappacosta un normale un quinto normale normale e sarebbe che non lo è che oggi se metti insieme sale maker e bella nuova forse è meglio bella nuova oggi oggettivamente così ragazzi mi spiace la difesa cinque a tutti e tre cinque a tutti e tre ragazzi siamo alic che ha fatto quella ha fatto quella cappella di testa si è perso l'uomo in aria calulo e tomori che lo guardano cioè ieri a livello difensivo tutti e tre come sono stati da sette sette e mezzo col tottenham ieri erano sbagati cioè ieri erano lì che si scambiavano le figurine cosa hanno fatto ieri sera quei tre cosa cosa stavano facendo e ci è andata bene che abbiamo preso solo un gol ma ieri tutti e tre erano erano svampiti colpa di pioli che non ha messo kier ragazzi oggi quei tre dopo la partita hanno fatto col tottenham come facevi a toglierli dai oggi però erano tutti e tre un po sbagati che poi i difensori non è che devono fare chissà cosa gli basta mezza cappella e preso gol cioè il difensore è un ruolo particolare devi essere concentrato sempre perché se fai la cappella ieri ho fatto anch'io una cappella giocando e sbagli prendi gol e poi perdi le partite purtroppo è così centrocampo benasser io gli do 5 e mezzo perché a me è piaciuto benasser mi spiace però a me piace sempre benasser ragazzi è l'unico che ci ha provato l'azione il tiro giocava impostava tra la piccola parentesi allora quello non è rigore mai sapete come la penso io no il rigore è una cosa seria quindi quello per me non è rigore mai ok però se l'arbitro lo fischia e sbaglia e sbaglia dopo il bar perché intervenuto il tocco c'è perché l'ha toccato la spinta e se il tocco c'è mi avete sempre detto voi non io mi avete sempre detto voi non io se il tocco c'è il bar non può intervenire perché è intervenuto il bar perché è intervenuto il bar quello c'è il tocco con le baraccia che lo spinge per me non è rigore mai ribadisco ma il bar non poteva intervenire perché quando ce l'abbiamo contro non interviene e quando ce l'abbiamo a favore interviene e non è la prima volta e non è la prima volta questo mi dovete spiegare il regolamento questo mi dovete spiegare poi ribadisco non sto qua attaccarmi all'arbitro la colpa è nostra parliamo di noi però questo me lo dovete spiegare perché se l'ha fischiato e il tocco c'è allora si può intervenire però poi dovete intervenire anche quando ce l'abbiamo contro se no non va bene anche lì c'era benasser quindi io il 6 a benasser io lo do crunic 5 e mezzo ragazzi cioè allora quando crunic fa la grande partita parliamoci chiaro perché qua io ho sentito anche maldin dire giocatori di livello superiore quando crunic fa la grande partita come ha fatto col tottenham ha fatto la normalità ci ha fatto quello che un campione fa quando è stanco capiamoci cioè quando crunic fa la super partita ha fatto la normalità quello è crunic quello è il jolly che metti quando sei in difficoltà non può essere una prima scelta non può essere che tu hai tre centrocampisti di cui uno di questi tre è crunic santo iddio bisogna comprarlo un centrocampista dato che vranx non lo facciamo giocare manco per sbaglio ad lì non ne parliamo mercato sontuoso oggi ho scritto anche a carlo e oggi va a vedere i video di pellecanti dice non abbiamo il 12 il 13 il 14 ma come carlo abbiamo fatto il mercato sontuoso e non abbiamo il 12 il 13 il 14 allora non è mercato sontuoso e noi te lo dicevamo già quest'estate comunque crunic 5 e mezzo poi ribadisco non ha fatto neanche grandi errori con me ne carne né pesce tornare 6 ovviamente non è il miglior teo hernandez però le poche cose che nascono comunque dai suoi cross dai suoi tiri dalle sue sgloppate le poche cose nascono da lui e anche lì non abbiamo un'alternativa ragazzi deve per forza giocare tutte le partite teo hernandez 90 minuti tutte le partite perché teo hernandez gioca 90 minuti tutte le partite perché l'alternativa è uno che non si regge in piedi di conseguenza sei a teo hernandez diaz adesso ditemi di diaz dite ditemi come ha giocato ieri diaz sono quelli che lo difendono eh mio amico albi quando è entrato del catelero abbiamo giocato in 10 e perché quando c'era diaz non ha tenuta una ieri non è attenuta una mentre col tottenham bene o male si era arrabbattato a tenerle ieri oltre che non segna non fa io lo ribadisco il numero 10 del milan dio santo deve fare golle a persino nakata persino quell'altro come si chiama no nakata come si chiama quel giapponese che avevamo manco mi ricordo come si chiama come si chiama quello che il giapponese che abbiamo preso lì o madonna non mi ricordo il nome vabbè avete capito persino lui segnava e faceva assist diaz non segna non segna non fa non incide quando incide perché riesce a tenere qualche palla ieri manco quello 5 5 gli do e non voglio esagerare 5 a diaz noi manca un numero 10 come come dio santo comanda un dibala uno zio uno che incide uno che incide perché ci serve uno che incide e perché il problema è lui e non leao e faremo il video nel pomeriggio perché quando leao gioca da 4 come ieri perché ha giocato da 4 devi avere qualcun altro che incide non puoi dipendere sempre solo da leao devi avere un altro che incide che non abbiamo che andava a comprato abbiamo speso 35 milioni per 1 4 kinderino 4 che entra e non serve a niente e meno male che non l'ho manco visto gli do 4 senza manco averlo visto perché non si vede e quando entra non si vede proprio un fantasmino kinderino 4 leao 4 male è in un periodo giù ragazzi anzi vi dirò di più è proprio oggi che va rinnovato quei giocatori la non vanno rinnovati quando sono al top vanno rinnovati oggi e oggi che tu vai da leao e dici raffa stai giocando male ma io credo in te perché tu sei il nostro campione tu sei il nostro campione io credo in te quindi oggi che lo devi rinnovare se lui ultimo è lui ultimo è e oggi che lo devi rinnovare leao oggi oggi proprio oggi doveva essere già oggi in sede e gli davi anche qualcosina in più altro che vendere altro che vendere ma ne parliamo nel pomeriggio girù gli do 6 perché ha fatto gol ha trovato quel gol su angolo però ragazzi un altro giocatore che anche anche pioli l'ha detto ieri perché poi la gente vede il gol e non si rende conto della prestazione del giocatore ma ieri girù non ha tenuto una palla non ha spizzato niente che poi non salta mai l'uomo e quello lo sappiamo ha fatto quella rovesciata bella sempre su angolo ma fondamentalmente se non inventa qualcosa leao lì davanti siamo il nulla totale anzi grazie a dio grazie al cielo che abbiamo trovato col suo angolo perché se non inventa leao noi non siamo il nulla lì davanti e la gente lo vuole vendere cioè non vuole comprare un altro leao no la gente vuole vendere l'unico che riesce a creare qualcosa e poi cosa facciamo poi come segniamo poi questi siamo eh perché quando quello non gira questi siamo comunque girù mi diamo 6 per il gol sono entrati nella panchina kinderino 4 glielo ho già dato ibra 6 e vedi quando è entrato lui perlomeno la stoppa tira cioè quando c'ha la palla c'ha la sua età quando c'ha la palla cerca di fare qualcosa sensata cerca di fare qualcosa con testa gli do 6 Florenzi gli do 6 anche a Florenzi bene o male sono stati pure sfortunati solo lui può andarci di testa e di piede nella stessa azione volando sembrava una tartaruga ninja mi sembrava cioè ci ha andato di testa e di piede poi ha preso quello di testa che ha preso Calulu che era per terra col braccio cioè non si è capito niente una tartaruga ninja mi sembrava al fine una tartaruga ninja però bello dei nonna alla fine è entrato voglioso io come quinto se sta bene il problema è che quello fa due partite e poi si rompe di nuovo non è che non è che c'è da aspettarsi chissà cosa quando sta bene io e Florenzi ho sempre stato fan di Florenzi purtroppo è sempre rotto Orighi 4 un'altra delusione totale del mercato ragazzi il mercato meno male che è venuto fuori ciao perché per il resto un disastro totale sto mercato cioè il mercato di quest'estate è un disastro totale 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 e poi è entrato Rebic non è manco entrato e poi quelli che vogliono vendere le A.O l'alternativa è Orighi cioè se non gioca le A.O gioca Orighi se non gioca le A.O gioca Rebic giusto per farvi capire quelli che attaccano le A.O però ne parla il pomeriggio chi è entrato Florenzi a Tonali 5 minuti senza voto senza voto questi sono a Pioli io gli do 6 gli do 6 perché secondo me ha fatto quello che avrei fatto anch'io cosa facevo di diverso fatemi capire cosa dovevo fare di diverso dovevo mettere prima col senno di poi sì col senno di poi ma prepartita io avrei fatto quello anche i cambi avrei fatto quelli lasciavo Giroud e mettevo Ibra e Giroud raga ma Giroud pure lui sta tirando la carretta sempre se poi le alternative non ce l'hai è colpa di è colpa di Pioli ha tolto Giroud ha messo Ibra che comunque ha fatto più o meno un po' meglio di Giroud ma più o meno quello se non gioca Leao o metti Orighi o metti Rebic l'unica cosa che io gli do colpa a Pioli Dio santo mi fai vedere Adli il Kinderino l'abbiamo capito non ce la fa non ce ne ha non ce ne ha non ce la fa quest'anno non ce la fa non ce la fa mi fai vedere Adli per favore gioca in quel ruolo tanto si entra si entra nel catelare questo è non combina mai niente per una volta Dio santo mi fai vedere Adli cosa dobbiamo fare per vedere Adli in Champions non può giocare in campionato me lo fai vedere una volta 20 minuti come Dio comanda mezz'ora me lo fai giocare qualche volta non lo fa giocare questo gli do la colpa a Pioli staff medico così lo riporto a zero alla fine abbiamo rotto solo Messias abbiamo recuperato tutti gli altri mi aspettavo un 2-3 infortuni stasettimana quindi adesso giochiamo una volta a settimana di solito quando giochiamo una volta a settimana come l'anno scorso il nostro staff riesce a fare quindi tolgo tutti i minus e lo riporto a zero perché siamo in una situazione decente quindi lo riporto a zero calci d'angolo a favore bene un 6 e mezzo abbiamo fatto gol abbiamo trovato la rovesciata soprattutto il primo tempo dove li batteva sempre bene a serre bene secondo tempo non l'ho visto quindi non lo so calci d'angoli contro 6 e mezzo sempre molto bene non so neanche se ne abbiamo avuti ieri però sicuramente non abbiamo preso gol d'angolo e non stiamo prendendo proprio pericoli d'angolo da parecchio tempo e dirigenza così il voto è sempre zero mercato penoso proprietario non c'è mai io mi riferisco alla proprietà la dirigenza si Maldini e Massara ci sono però ha fatto un mercato penoso budget penoso quindi più di zero non posso dargli gli avevo dato 4 quando era venuto almeno in presenza ma quando non c'è è zero quando non c'è è zero quando viene lo porto a 4 perché ha fatto male iscrivetevi al canale mettete un bel like fatevi un giro sul canale di Giorgia e ci sentiamo il pomeriggio che ho un po' di video da fare poi vediamo